E a un certo punto ho sentito Giuseppe che diceva vedere, su quella parola vedere ho visto un fulmine e poi ha cominciato un peso molto forte, come se avessi qualcosa proprio qui sul punto zero, sullo stomaco, ma non riguardava il terzo chakra, è una cosa che ancora sta lavorando dentro perché sento proprio le energie che si muovono, le sento il caldo, il freddo. E poi a un certo punto ho sentito molto molto caldo e lo sento anche adesso, però prima nello stomaco era nelle braccia, nelle gambe, quindi le energie stanno lavorando.